Buongiorno, avevamo già accennato che ci saremmo sentiti oggi, martedì, e vi avevo accennato che ci saremmo soffermati sulla menzogna o sulle menzogne. Fedro, che è stato un grande maestro, come Esopo, o come Esopo, con le sue favole, racconta come nacque la menzogna. Succindamente, ecco qua. Prometeo voleva, aveva in animo, volle creare una statua che ricordasse all'uomo la divinità della verità. La verità perché senza la verità l'uomo va in rovina. Fece una statua bellissima. Si allontanò dalla bottega artigiana, perché chiamato dagli dei per altre ordinazioni. Prometeo la faceva con gli dei. Era quasi come un personaggio di nostra conoscenza. Però voleva creare il simulacro della verità, una divinità alla quale dedicare tutta l'attività dell'uomo, dell'uomo onesto. Aveva Prometeo allontanandosi lasciò la bottega in mano al suo garzone, al suo ragazzo di bottega, che si chiamava Incanno. Incanno in assenza del maestro. Ha detto, guarda il maestro come ha fatto bene, devo fare una statua bella come quella che ha fatto il maestro. E riuscì quasi a farla. La riuscì a farla bellissima come quella del maestro, come la verità del maestro. Ma non era la verità del maestro. Perché non ebbe il tempo di finirla. Sentiva Prometeo che tornava e in tutta fretta si fermò e lasciò la statua a metà. Bellissima come quella del maestro. Ma non l'aveva completata. Ci mancavano le gambe. Uguale, tale e quale. La verità e la verità dell'inganno, la menzogna, uguali. Molti non se ne accorgono che sono diverse. Quante volte non me ne accorgo nemmeno io. Però basta aspettare un poco, non molto, basta aspettare un poco. Perché la verità cammina con le sue gambe. L'inganno è una verità senza gambe. O il detto moderno dice che ha le gambe corte. Non arriva lontano. Striscia per terra. si muove lentamente. Non va lontano. Eccola cari amici che seguite il sabbatale. Non la dimenticate mai questa storia. Perché ognuno che vi parla e vi racconta delle cose. Pare che vi parla e vi racconta di cose meravigliose. A volte vi racconta Fantonia. Spesso vi possono raccontare Fantonia. Spessissimo. Anche una volta al giorno. Anche più volte al giorno. un esempio. Un esempio. Ogni minuto ti può fare un esempio. Ma vi voglio portare quella qualcosa che il nostro sindaco di Bacoli il 5 aprile scriveva su una spiaggia liberata. verità. Eccola qua. Pare una verità. Tutti ci hanno creduto. Molti ci hanno creduto. Molti ci credono ancora. Per quanto l'inganno non cammina e non ha gambe ancora pare verità. Perché la guardiamo solo in faccia. La guardiamo solo nel bus. Una bellissima statua la verità. Però fissatela bene. Considerate quelle cose dette. Consideratele attentamente. Aspettate. Aspettate che si muovano. no. Non si muoveranno mai. Allora scriveva il sindaco il 5 aprile. E' iniziata la demolizione di una nuova struttura abusiva sul litorale di Bacoli. Stiamo restituendo al popolo oltre 5.000 metri quadrati di sabbia. Di battiglia di panorama mozzafiato. E qua vediamo come la verità è bugia e menzogna. E' iniziata. Già quindi altre verità di questo tipo erano state dette in precedenza. Perché lui non si ferma una volta. Perché una bugia detta mille volte per le menti più deboli può diventare come una verità. E' iniziata la demolizione di una nuova struttura. Quindi già altre strutture. Abusiva sul litorale di Bacoli. Stiamo restituendo al popolo oltre 5.000 metri quadrati di sabbia. Di battiglia di panorama mozzafiato. Che stai restituendo? Alla sabbia. Che stai restituendo? La battiglia? Il panorama mozzafiato? Venite buono quando la bugia... La bugia non è solo soltanto dire piove. Ma faccio e non è vero. è una bugia. La bugia è anche far credere con delle parole vere una cosa che non sta succedendo. vi restituisco. Intanto non restituisce niente. L'abbiamo detto tante volte. È stata restituita dall'autorità giudiziaria. Ed è stata restituita togliendola al comune di Bacoli. Era il comune di Bacoli che è stato costretto a restituire al popolo dall'autorità giudiziaria. Tutto il contrario. il giudice ha ordinato che quella zona di spiaggia non è proprietà del comune e il comune pigliava i soldi, pigliava i soldini per la concezione. Non è proprietà del comune ma è la proprietà del demano. Quindi restituita al demano, al bene pubblico. Ma che cosa? Comunque. La sabbia, la battigcia, il panorama mozza piatto. Basta qualcuno che può rubare il panorama. Sì. Mettendoci una cosa davanti. Ma quella cosa davanti ci vuole qualcuno che ce la fa mettere. Allora se io sono sindaco protempore, io sono responsabile di tutti gli abusi che hanno fatto fare gli altri sindaci protempore fino a quando non li rimuovo quegli ostacoli. Ma io non ho rimosso niente. È stato il giudice che ha fatto rimuovere quegli ostacoli. Quindi a bugia si somma un'altra bugia. Ma la bugia più grande qual è? Ha fatto credere che ci restituisce una spiaggia. Ma la spiaggia, per me che sono un cretino e non capisco niente, è un posto dove la gente d'estate va a fare il bagno. Qualcuno anche della marina, dell'aeronautica, di questo e di quell'altro che lui ha sempre rinunciato quando faceva lo scavezzacollo in mezzo alla strada e che da sindaco non ha saputo fare niente per farne usufruire i cittadini. Lascia piaccia. Potete andare, mettete i piedi vostri, bagnate i piedi, bagnate i piedi. E lo precisa, bagnate i piedi. L'avessero bagnato tutto quanto. Bagnate i piedi. Alla fine, cosa che si sapeva. Ci vuole l'autorità portuale, l'autorità Maritti, che dice guardate, là voi niente fatte niente. Là è stato un giudizio che ha restituito la proprietà al demano. E comunque là bagni non se ne possono fare. E comunque mettete subito dei cartelli che i bagni là sono pericolosi. Pericolosi perché ci sono stati, ci sono, ci sono stati e ci sono tanti. Quindi inevitabilmente l'acqua è portata a un inquinamento particolare. Ci sono dei pezzi, dei materiali che inevitabilmente possono stare lì nei pressi delle barche. Un bambino si può fare male, anche un adulto. Ma io vado oltre. L'autorità avvisa che l'acqua non si può toccare. Ma io mi chiedo, in un posto che è stato cantiere navale, cantiere di lavori per barche, rimessaggio. Sicuro che la sabbia è pulita? Sicuro che non ci sarebbe stato bisogno prima di mandarci bambini, persone delicate, persone adutte. Prima di mandarci, che so, a nonna Letizia. Gli avete detto a nonna Letizia che per l'età che ha, che sarà sicuro più giovane di me, però io in questo momento i piedi nudi lì non ce li metterei perché non lo so che tipo di sporcizia può esserci. vero? Ve lo siete mai chiesti? Tutte le cose che non si dicono su un fatto, su una cosa, su una realtà, sono come menzogne perché ci fanno credere cose che non sono. Ci fanno credere che una cosa bella andare là quando può essere pericoloso. Ma io non voglio fare allarmismo. Sicuro non è pericoloso. Ma qualcuno è andato a vedere. C'è stata un'autorità sanitaria. Sindaco, tu sei l'autorità sanitaria comunale. Ti sei assicurato con qualche ente dell'asile che siete culo e camicia. Che fate tutto insieme col direttore dell'asile. Che l'asile lo avete a notizia dove volete voi, a secondo per fare i vostri comodi. Qualcuno ha visto là? Se per caso non c'è da fare un'azione, un intervento per risanare il territorio, per risanare quella spiaggia. No. O l'avete fatto di nascosto. O lo sai solo tu. Peppi. Peppino Scotto di Luzio. Ma tu che eri tanto attento a tutto. Possibilo mai che sto vogliono a te da un'ambriacare il cervello. Peppi. Tu ti stenderesti sulla sabbia. Non dico col telo. Noi lo sapimmo. In coppia ci piace. I bambini si stendono nudi. Non solo sul telo. Peppi. Tu ci andresti. non lo so. Ma noi continueremo su questo argomento. Il sabatale si batterà su queste cose. Come si batterà ancora sull'asile. Come si batterà ancora su una vice sindaca che che crede di poter fare i comodi suoi con gli atti comunali. Il PUC non è una cosa che serve per i nostri interessi. Il PUC non è una cosa che serve per gli interessi dei nostri zii. mariti o delle società dove i nostri mariti hanno interesse. Il PUC non è una cosa che serve per incoraggiarci a comprare piccoli lotti di terreno. Il PUC è una cosa che deve fare vivere la città. Il PUC non può essere una cosa che trasforma aree per edilizia economica e popolare. Case popolari. E le trasforma in aree per fare centinaia di appartamenti. Ne riparleremo. Ma ne riparleremo ancora. E ne riparleremo molto. Fino a quando ci accorgeremo. Fino a quando si accorgeranno tutti che l'inganno non ha le gambe. L'inganno è una verità seduta per terra. È una verità che non cammina. Giossi raccontaci un'altra favola. Più favole racconti. Più c'ho cose da dire. Arrivederci a tutti. Grazie. 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 Grazie.